Abbiamo aperto da oggi un sito internet che si chiama sos.eutanasia.it sotto la nostra personale responsabilità di tre persone associate che si associano per fornire informazioni ma anche supporto logistico in modo pubblico alle persone che chiedono di ottenere l'eutanasia all'estero in Svizzera. Sul piano tecnicamente penale si chiama concorso all'omicidio del consenziente perché la legge non prevede altro, cioè non prevede quella depenalizzazione in casi molto precisi, delimitati e regolati che la nostra proposta di legge di iniziativa popolare prevede e noi faremo questa iniziativa fino a quando il Parlamento non inizierà a discutere. Non pretendiamo che i parlamentari siano a maggioranza d'accordo con noi ma pretendiamo che discutano perché lo dice la Costituzione e perché abbiamo fiducia che se quel dibattito mi spiace non sia venuto il Presidente Fico non ci abbia risposto e continueremo a parlare di questo. Se quel dibattito sarà davvero un dibattito pubblico ci sono i numeri parlamentari che ricordava Luigi ma ci sono anche i numeri popolari che riguardano oltre la maggioranza dei cittadini italiani. Da oggi parte questa azione di disobbidenza civile c'è anche un conto corrente per chi vorrà sostenerne le spese legali Mina Welby, Gustavo Fraticelli ed io forniamo in modo pubblico e aperto e ne daremo testimonianza e prova pubblica sostegno informazioni ma anche sostegno logistico e non solo per coloro e sono quelli che hanno le possibilità economiche sono quelli che hanno le possibilità fisiche e purtroppo non sono quindi tutte le persone coloro che vogliono andare in Svizzera per ottenere il suicidio assistito.